La regge in cui oggi andiamo ha sofferto molto in questa guerra, era proprio un posto delle battaglie sanguinose. Il palazzo, quello che ci aspetta, era restaurato a base dei documenti storici, proprio all'armonica, dove quando i musicisti hanno suonato questa musica, le sue idee sono rimaste sulle carte. Il nostro grande ingegnere, Tuolkov, ha preso questi progetti di Leblon, poi ha fatto un altro progetto, il progetto del parco delle fontane. Siamo al palazzo di Metterdorf Museo, stiamo per entrare, i tre sei là dentro, come se ne possono fare, specialmente, non si possono fare qualcosa. Questa è la stile, è passato il postile della città. Anche poco. Anche poco. E Grazie a tutti. 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 a tutti.